e lo dico appunto e lo ribadisco a titolo puramente personale passi pure questo decreto le immagini che si sono viste non sorprendono più e chiunque abbia un po' di sale in zucca sa benissimo che questi ritrovidi disadattati soggetti schizoidi in piena crisi dissociativa e ragazzini invece confusi e manipolati lungi dall'avere alcun valore politico hanno molto di psichiatrico e qualcosa di sulfureo questi spettacolini del resto se non avessero l'aiuto di quelli che sono i grossi e i forti poteri occidentali resterebbero solo dei fenomeni folcloristici dichiaratamente risibili e di cui non ci sarebbe neanche a discutere ma visto che le cose stanno in modo diverso mi auguro davvero che si arrivi alle estreme conseguenze